ciao a tutti da iota e bentornati sul canale oggi su minecraft dovremmo abbiamo la scorsa volta abbiamo arredato la cucina abbiamo fatto la cucina non so questo per cosa metterci magari ci metterò questa cesta vediamo un attimo oppure qualcos'altro lana grigio chiaro lana bianca ma lana bianca si la metto così bruttissima mi piace ok dunque dobbiamo vedere di arredare e completare la nostra camera da letto e vedere di fare qua un qualcosa per poter dobbiamo chiudere dobbiamo fare un muro qui dobbiamo fare un muro che chiude la nostra camera da letto quindi per fare un muro vediamo un attimo sono indeciso di come fare il muro dunque o di legno scortecciato o di qualcos'altro vediamo un attimo se ci va bene farlo in un modo o in un altro allora intanto no questa qua andava bene qua perché per chiuderla dovremmo fare una cosa del genere ecco e poi rimetterei allora vediamo un attimo noi saliamo diventerà un po più piccola mentre un po più piccola perché per forza di cose allora noi saliamo dalla scala voglio al minimo due blocchi liberi quindi dovremmo iniziare da qua e prendiamo proprio la finestra qui dobbiamo togliere la finestra ok e ci serve potremmo farlo da bete non lo so la bete lo terrei caro per adesso fino a quando non abbiamo tanto allora è una cesta però la sopra ci sta ci sta ci sta ci sta una cesta ce la facciamo così eccola qua che sarebbe il baule ai piedi del letto possiamo mettere anche qua ok allora questo non serve ma questo sì ok quindi facciamo la porta qua esatto così noi passiamo tac allora qua lo scortecciamo e ci andiamo a mettere una porta vediamo un po che porte abbiamo no questa no puoi vedere la porta di betulla com'è la porta di betulla è brutta o bella sì ci può stare esatto e abbiamo la porta per la nostra stanza da letto perfetto sì qua ci metteremo un altro letto e qua ci faremo un po di roba allora vediamo un attimo ci mettiamo 1 anzi no assi diabete dammi un altro paio di assi diabete e facciamo così se no è sempre tutto monocolore ed è brutto allora assi diabete 1 2 3 1 e 2 allora divanetto poi facciamo lo facciamo possiamo fare anche così vediamo un attimo dove posizionarlo ce l'abbiamo ce l'abbiamo ok e lo posizioniamo tipo qua ok tavolinetto anzi aspetta un attimo aspetta un attimo che mi è venuta un'idea vediamo un attimo se io facessi così 1 e 2 potremmo fare una cosa del genere no direttamente così ci sta ah perché dovrei spostare un po' questo vediamo un attimo vediamo 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 sì 1 e 2 ok e fare così qui 2 e 3 lo possiamo fare sì ok perfetto ok ci siamo facciamo un altro divanetto perfetto tipo qua 1 2 e 3 1 2 perfetto e un po' abbiamo aderato due divani questo qui ci siamo qua dentro potremmo farci una piccola poltrona per sedersi ed pensando pensando delle mensole troppe troppe qua c'è il vetro quindi non mensola qua ma una mensola qua perfetto potremmo fare anche una mensolina qui vediamo così è brutto ci manca lo spazio armadio però per fare l'armadio devo fare una cosa del genere vediamo se si può fare viene brutto no non si può fare perché manca non posso attaccarlo vero? peccato vabbè è andata così ah però posso fare così quindi potrei simulare una cosa del genere me lo fa mettere? no peccato vediamo se ci riesce a fare una cosa del genere vediamo un attimo che faccio così faccio così faccio così e così abbiamo simulato l'armadio sì ok che ci sta pure bene perfetto questa è la porta allora cucina ci serve una dispensa quindi allora questo carne pesce carne pollo questo va in dispensa ok questa qui c'ha un sacco di roba e la andiamo a mettere qua sotto quindi ne distruggiamo una perfetto qui ci sono il borcelli ci andiamo a mettere tutta la legna ok poi ci facciamo un'altra cassa 1 e 2 che andremo a mettere vediamo un attimo eh allora io l'andrei a posizionare l'andrei a posizionare qua in alto e gli facciamo una bella mensola ottimo questa qui che è un pezzo di cucina ah togliamo questo 1 2 3 perfetto qui c'è tutta la legna qui c'è questa poi ci andiamo a mettere gli arboscelli e tutta questa roba qua adesso vediamo dove andarla a mettere e posizionarla alla zucca e cibo allora qua c'è tutta la legna quindi gli arboscelli vanno qua qui abbiamo materiale vario canale a zucchero però dovremmo metterlo qua questa qui la togliamo andiamo a mettere qua perfetto prendiamo questa questa facciamo due mensole così troppo ok e ci manca il tavolo e le sedie allora ci manca il tavolo e le sedie cartello di betulla o cartello di quercia facciamo cartello di quercia o di betulla o di betulla di betulla di betulla allora 1 e 2 dunque allora vediamo un attimo di dove fare il tutto 1 e 2 1 e 2 farei così cartello di quercia mi manca qualcosa sì dunque manca sempre qualcosa vai ok adesso dobbiamo avere tutto e questo 3 cartelli perfetto e 2 e dobbiamo fare i tavolini allora per fare il tavolo ci vuole il legno no ci vuole 1 3 no ho sbagliato ho fatto questo 1 e 2 1 e 2 va benissimo anche così tanti non dovrebbe vedersi andiamo a posizionare questo ci serve un'altra pedana per fare il tavolo un po' più grande ok abbiamo uno spazietto va benissimo una mensola qua poi ci andremo a mettere dei fiori delle cose argilla ne abbiamo no quindi la prossima missione è alla ricerca dell'argilla sicuro che non abbiamo no questo qua qua no allora argilla no però 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 argilla non ne abbiamo farei che cacchia è sta roba legno di betulla non lo sapevo farei un'altra di questa da mettere qua dove era prima così viene più veloce e ogni volta non devo andare dall'altra parte ci sta no è bruttissimo volevo fare tipo arco e per farlo però dovrei farlo di betulla uno e due dai qua ok uno e due sì ci siamo quella c'è quella c'è poi la c'è andrà qualcosa c'è il nostro tavolo con le sedie la nostra cucina bene perfetto possiamo andare a dormire per indomani ma prima direi di qua l'abbiamo arredata ci siamo anche una torcia qua secondo me uno e due adesso c'è questa cosa qua che mi fa salire qua e due bene perfetto signori io direi che per oggi è tutto spero che vi siete divertiti spero che questi gameplay vi rilassino e vi portino qualche spunto in più per giocare il vostro minecraft lasciate un like un commento condividete se vi va iscrivetevi al canale per supportare il canale come sempre siete medici alla prossima bye bye